Sono i nostri fratelli, le nostre sorelle maggiori, su cui possiamo contare sempre. I Santi ci sostengono e quando nel cammino sbagliamo strada, con la loro presenza silenziosa, non mancano di correggerci. Sono amici sinceri, sono amici sinceri, di cui ci possiamo fidare, perché loro desiderano il nostro buone. Nella loro vita troviamo esempio, nella loro preghiera riceviamo aiuto e amicizia e con loro ci stringiamo in un vincolo di amore fraterno. La santità è un cammino e un dono.